Simone, pensando all'ospitare te in questi giorni durante il nostro convegno e pensando alla via della risurrezione, una tappa nella stazione è il pensiero è venuto alla fedeltà, perché comunque nel corso di questi anni, della tua carriera professionale come artista, come cantante e ora anche come artista anche di teatro, hai sempre avuto un occhio di riguardo verso gli ultimi, verso i poveri e quindi la parola fedeltà per noi sembrava quella più importante. Cos'è per te la fedeltà? Allora innanzitutto credo che la prima fedeltà a cui bisogna fare onore è al proprio essere, alla propria personalità e quindi un lavoro continuo di ricerca interiore per fare in modo che la propria personalità sia perfettamente sovrapponibile alle proprie azioni e ogni azione deve in qualche modo somigliare a questa essenza che è la nostra anima, a quella scintilla divina che è presente in ognuno di noi e che ci rende artefici poi della grande creazione universale. In secondo luogo una volta trovata e instaurata questa fedeltà, questo connubio, bisogna essere fedeli anche alle proprie azioni e responsabili delle proprie idee e portarle fino in fondo, anche a costo di alcuni della vita, anche a costo di enormi sacrifici. Per quanto riguarda la mia carriera io sono sempre stato fedele a uno sguardo sulle piccole cose. Fin da piccolo, fin da bambino andavo a caccia di piccoli tesori nascosti nei mercatini dell'antiquariato, mi piacevano le cose piccole, collezionare le antichità. Con quello che faccio oggi credo sia la stessa cosa, nel senso io vado a scavare nella profondità, nelle zone nascoste della nostra società e riporto alla luce storie dimenticate, storie che nessuno conosce, come quella del profeta Davide Lazzaretti, come quella dell'esodo degli italiani dell'Istria e come quella dei nostri nonni che sono sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale. Stasera sei qui con noi proprio per presentarci questo spettacolo dedicato al Cristo dell'Amiata e a Davide Lazzaretti. Cosa ti ha colpito di lui e perché il senso di questo spettacolo? La cosa che colpisce di Lazzaretti è che la somiglianza incredibile tra la sua storia e quella di Gesù Cristo. Solo che Davide Lazzaretti venne scomunicato e di conseguenza censurato dalla storia ufficiale per tanti anni e ovviamente cancellato da qualsiasi memoria. La sua comunità delle famiglie cristiane mi ricorda molto l'atmosfera che si può creare anche in un luogo come Romena dove le persone cercano un contatto con gli altri e cercano di elevare il proprio spirito attraverso il confronto con gli altri. Lazzaretti è il racconto di un cammino dell'uomo che va alla ricerca di Dio e in questo credo che sia universale la sua storia, sebbene poco conosciuta senza poi parlare del fatto che lui fu un precursore per l'epoca in cui visse, stiamo parlando di metà ottocento nella comunità che aveva inventato, dava il voto alle donne le donne avevano i più alti incarichi di responsabilità ed è la prima volta nella storia d'Italia che una cosa del genere avviene e poi una società di mutuo soccorso con la cooperativa di consumo per l'assistenza degli ammalati degli orfani, delle vedove attraverso anche il lavoro in comune come dicevo prima si permetteva, era un esperimento, era un prototipo lui pensava che attraverso la comunità gli spiriti potessero elevarsi al cielo e per questo, per fare questo, scelse un luogo incredibilmente affascinante come il Monte Labbro dove ancora oggi resistono i ruderi del suo eremo, della chiesa e della torre che aveva fatto costruire insomma un personaggio che ha ancora tutto da studiare ha ancora tutto da approfondire e mi sono messo in testa, ecco, di riportare la tessera nel mosaico della storia italiana no? no? no?